Nicolò Bonifazio, allora con le tante gare fatte, anche vinte, tanti ottimi risultati e piazzamenti avresti mai pensato di ricevere un riconoscimento per aver salvato un gattino? Sì, sicuramente penso che questo sia il primo riconoscimento al di fuori del mio sport e sono veramente contento di averlo ricevuto e spero di continuare così a fare altri gesti del genere perché sono sempre cose belle. Durante un allenamento senti miagolare in una pausa, ti eri fermato per rifornire la borraccia se non erro e poi alla fine ci hai impiegato mezz'ora per recuperare questo micio disperso. Sì, subito non avevo molto capito la situazione e allora mi sono lanciato in mezzo al bosco a cercarlo. E avevi paura che fosse qualche bambino, qualche essere umano se non erro, no? Era talmente piccolo che non era più proprio un miagolio, era un suono disturbato perché era anche finito sotto dei rami, delle cose non si vedeva e allora piano piano sono riuscito a cercarlo e l'ho preso a sfinimento e sono riuscito a prenderlo. E portato poi in bici per tanti chilometri, insomma un salvataggio in piena regola, ma tu non avresti pensato forse tanto clamore e addirittura poi ricevere la bandiera di io faccio la mia parte di Academia Gronos. No, sicuramente questo no, però per me è sembrato un gesto davvero normale e c'è stata una bella cosa mediatica dietro e spero che magari chi ha abbandonato questo gattino capisca che non è il modo giusto di fare queste cose.